Quattro persone, pieno pomeriggio di un sabato di luglio, il presidio dei lavoratori dell'Exo Italia prosegue senza sosta, non si ferma neppure il sabato e la domenica, così da 39 giorni, 56 dipendenti licenziati dalla multinazionale americana produttrice dei Sandali Crocs che sono pronti a passare l'ennesimo fine settimana. Nessuna festa in programma per la giornata di domenica, solo il rigido rispetto dei turni con la garanzia che davanti a quei cancelli resti sempre qualcuno. Dentro ci sono gli stampi che la proprietà ha deciso di spostare pressoché immediatamente in Bosnia. A Padova resterebbero solo una ventina di dipendenti addetti allo sviluppo dei progetti e all'ufficio acquisti. Alcuni imprenditori si sono affacciati in questi giorni, uno ha anche lasciato un biglietto da visita. Solo parole e curiosità raccontano disillusi e preoccupati lavoratori, padri e madri di famiglia che da un mese non ricevono lo stipendio. Martedì mattinata si aprirà il tavolo di confronto al Ministero per lo Sviluppo Economico, da una parte l'azienda, dall'altra i lavoratori, i loro rappresentanti. In mezzo il governo a tentare di mettere in piedi una trattativa, ad abbattere il muro di no che si sono sentiti dire sinora ai dipendenti. Le speranze di 56 famiglie sono riposte tutte lì.